un buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti è scattata su tv 2000 l'ora solare ed è scattata per raccontarvi nella giornata di oggi storie di grande amore storie di amore che diventano amore ed amicizia ben oltre la fine della vita stessa storie d'amore che partono dal principio della bellezza la bellezza salverà il mondo e c'è un'arte che si sublima al punto tale da far scattare l'amore e l'arte è quella che ombretta fusco conosce molto bene perché lei è una youtuber insomma un canale su youtube seguitissimo che riguarda proprio la bellezza dell'arte e l'arte la conosce bene anche gabriele gabriele midolo che è stato per un periodo suo allievo e poi è diventato suo marito ho detto bene sì buongiorno abbiamo fatto tutto prima baci e abbracci adesso ci buttiamo subito sull'intervista ben trovati grazie ben arrivati sposati da quanti anni settembre 10 10 anni quindi mettete due candeline a questo punto no 10 sulla sulla torta e ho detto bene canale youtube arte per te sì più di 175 mil iscritti ora gabriele si sentirà un pochino trascurato perché ho punto dritta su di lei però prima guardateli cioè se non è questa una dichiarazione d'amore in nome dell'arte della bellezza francamente non sapremo dove andarla a cercare allora tentativi molto seri di corteggiamento da parte dell'allievo gabriele e come dire la professoressa aveva mangiato la foglia no affatto assolutamente bene che cosa è successo dove eravate raccontateci era l'accademia di belle arti niche di catania si erano quasi 14 anni fa lui stava per laurearsi aveva qualche materia da dare sfortunatamente con me e poi io ero la sua relatrice di tesi sare stata successivamente la sua relatrice di tesi io dovevo partire quell'estate era giugno aveva dato gli ultimi esami poi c'era la sessione di settembre ho lasciato il mio recapito e la mia mail ai ragazzi a cui dovrei a cui avrei dovuto fare da relatrice solo che mi dolo qui presente usava la mail per tutto tranne che io andavo con l'accento mi do lo e lei non mi corregge no no ma scusi ma se non mi dice saluzzi io corrego ma lei è troppo buono ho fatto una figura orribile no 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 lo sbagliano in molti anche per noi è normale va bene cenere sul capo non ne azzecco uno io sembro sembro nino frassica quando mi ricordate schiedo scusa per l'apertura e chiusura di parentesi non hai moltissimi si chiamano mi do lo comunque è un cognome che si presca le donne le donne mi dolgo assolutamente insomma lascia i suoi i suoi recapiti solo che lui mandava foto di paesaggi romantici invece che la tesi da correggere frammentata da scorci di vita e di messaggi su come sta come e quindi io cercavo di tagliare corto e lo richiamavo alla serietà con un midolo per favore per questo detto midolo perché le davo dell'eco e lo chiamavo per cognome la smetta non è il caso poi arrivato il giorno dell'esame e gli ho fatto capire che non era il caso sta dicendo con degli occhi di braggia gli ha dato un voto più basso della sua media si diciamo che ho fatto non sono stata iniqua ho fatto un esame approfondito un esame cattivo proprio parte noi stiamo cercando tutti questi giri di parole intorno l'esame cattivo cattivissimo perché però gabriele si era innamorato mi era innamorato veramente volevo solamente uscire con lei si vede il mio obiettivo era solamente quello non era il voto migliore no su questo non ci sono dubbi insomma lei cercava di far capire di far arrivare un messaggio ecco bene come sono riuscito insomma prendendo un voto basso ma ci sono riuscito prendono un voto basso poi però 110 lode tutta la vita perché quando scocca questa quando si capisce tra voi che ci sia la possibilità di qualcosa io avevo promesso a gabriele di andare alla sua festa di laurea come uscita intanto promessa se fosse giunto alla laurea bene avesse fatto una bella tesi come regalo di laurea avrebbe avuto la mia presenza alla sua festa e quindi ho fatto quello che avevo promesso e lui la sera mi riaccompagnò a casa dalla sua festa devo dire che già mi era simpatico perché aveva dei modi molto carini di corteggiare anche molto quello sfacciato goffo che piace tanto a noi ragazze e quindi già da quella sera si si percepì che ci saremmo rivisti però il primo sentore avvenne in un'epoca in cui proprio non c'era messo che saremmo dovuti diventare marito e moglie perché durante il primo anno di accademia la mostra di fine anno noi ci scambia io occupata con un altro ragazzo lui è occupato con un'altra ragazza uscendo dall'accademia dovete andare via prima chiamare un taxi quindi uscita all'accademia sul portone sulla sinistra uscendo c'era gabriele e incrociai lo sguardo con questo ragazzo che conoscevo a malapena era uno studente di primo anno e senti una cosa io mi ricordai di quel mi ricordo ancora di quel momento si vede si è dico proprio io ce l'ho a poca distanza dal naso quindi si commuove perché poi lui dopo che ci siamo sposati mi raccontò che si ricorda magari lo vuole dire lui perfettamente il momento perfettamente proprio la vedo come se ce l'avessi davanti vedo lei uscire dal portone ma in un rallentatore quasi rallentatore con la gonna che si muove piano piano e lei che si lancia verso il taxi abbiamo un po di miele in studio ci siamo un po appiccicati con il miele che bello quasi un passo di danza è stato quasi un passo di danza e l'amore è questo quando quando a un certo punto scatta un un attimo rarefatto un attimo rarefatto allora no ce l'ho ancora un po di tempo per passare da quell'attimo rarefatto guardate intanto qui siamo al lavoro no ecco poi questo continuare ad occuparvi della della bellezza del bello e finché non vi trovate ad un comune se ricordo bene non dico un comune restauro ma insomma eravate ecco eravate in una chiesa poi tra l'altro sì la chiesa ritorna a un certo punto perché ombretta deve prendere una decisione e si trova nel posto giusto al momento giusto ma insomma voi a un certo punto decidete di sposarvi sì quando dove come perché perché lasciate perdere si amano quindi eravamo su un ponteggio stavamo lavorando insieme eravamo uno di fianco all'altro è così parlando del più del meno dice questo 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 punto abbiamo tutto noi proprio decorando riprendendo una parte pittorica parlando del più del meno che facci sposiamo va bene si sposiamoci io vorrei farvi vedere le facce delle signore che guarda che facci sposiamo giustamente sì ma è bellissimo accade accade e la risposta è stata va bene sì che data prendiamo il telefono vediamo le da maggio ti piace maggio maggio poi abbiamo visto che quell'anno c'era una data bellissima che era il 9 9 09 9 settembre sì 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 e quindi abbiamo scelto quella e ciao se siamo a settembre 2019 facciamo dieci anni siamo a quella data bene a casa come state siete seduti comodi vi siete commossi avete pensato che tutto questo sia possibile perché è vero può può accadere per un semplice motivo è accaduto allora noi fermiamo gabriele ombretta un istante qui con noi tenete la finestra spalancata se sentite profumo di primavera d'inverno è normale è l'amore l'ora solare arriva quando sono belli arriviamo arriviamo al momento delle nozze e c'è questa fotografia bellissima perché una sposa è sempre l'espressione della felicità lo sposo anche ma visti così di spalle davanti a sacerdote voi direte che bello come sono belli e la chiesa era la chiesa era la chiesa santa maria di gesù di catania ed era la chiesa che è stato il nostro primo restauro insieme e questo non è detto da tutti diciamo vi siete sposati nella chiesa che abbiamo restaurato noi abbiamo restaurato insieme all'accademia delle arti la la macchinetta d'altare che tutto l'impianto d'altare la macchinetta ecco è tutto il frontale che vedete entrando in chiesa fatto di nicchie di colonne si chiama macchinetta d'altare quando è staccato dalla costruzione il calcestruzzo ora è passata poco fa la foto di un crocifisso sì e ci torniamo un attimo lo chiedo alla nostra regia perché perché io in quel restauro ero il direttore dei lavori e mi ero presa all'onere di occuparmi del protagonista quindi la pulitura del cristo che era un bellissimo cristo aspettava a me e mentre io gli pulivo il viso e nettavo quelle pieghe tanto significative che devo consiglio perché già si sentiva il nascere del nostro amore quindi chiedevo se stessi facendo la cosa giusta non soltanto per il fatto lei è stata gentilissima a non sottolinearlo ma non soltanto per il fatto che lui fosse un mio ex allievo quanto per il fatto che c'è una buona differenza di età qui guardi c'è una buona c'è una differenza sì sì che non è una differenza di età incredibile ora siete possiamo dire la vostra differenza quant'è 12 anni ora qualcuno direbbe 12 anni qui no cioè vi vedono per la prima volta quindi io li porto male allora no forse 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 li porto bene io forse siete esatto è una questione proprio di ma no li porti bene tu ecco però però questo ed è molto bello da parte sombretta questo spiega anche il volersi eh il voler essere sicura certo ma per il bene di tutti e due no perché avete avuto qualche qualche difficoltà su questa differenza di età qualcuno intorno a voi che può aver gli amici sono rimasti un pochettino gli amici miei e gli amici suoi non quelli che ce l'avamo fatti insieme certo ma gli amici sono rimasti tramortiti da questa li abbiamo persi tutti e qualche parente tutti e qualche parente li abbiamo persi sì 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 ci sono o allontanati o li abbiamo per strada eh non so perché forse il prende avere il coraggio di affrontare le proprie decisioni andando contro quelli che sono i preconcetti comuni forse per molti è brutto nel vederlo negli altri quando non si è riuscito a farlo per se stessi e allora da fastidio no loro hanno il coraggio di farlo e magari c'è chi si costringe in vite e pro forma sì 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 certo certo ma questo è anche sono anche gabriele forse dei preconcetti sì sì no non l'abbiamo mai vissuta non abbiamo mai sentito la differenza d'età non avete mai sentito la differenza d'età mai mai neanche un minuto ribadiamo il concetto non c'è allora va all'altare questa sposa con questo velo guardate questo velo perché questo è un velo che poi ritorna perché la ciliegina sulla torta noi non l'abbiamo ancora svelata ve la raccontiamo tra un attimo all'altare senza il suo papà lei aveva un papà meraviglioso che adorava meraviglioso che è andato via troppo troppo presto troppo presto non lo guardo se non mi commuovo e sì è andato via a 59 anni un leone un leone lui diceva sempre meglio un giorno da leoni che una vita da pecore era il suo motto e sembra che qualcuno l'abbia sentito è stato un mentore una guida mi ha preparata al dopo senza di lui e quindi sì ed è grazie scusate ed è grazie a lui che veramente grazie a lui che io intrapreso il mio percorso in accademia che ho potuto conoscere Gabriele perché io prima ero in giudisprudenza perché papà questo papà così presente così importante era un papà classico la mia è una famiglia molto classica quindi dopo il liceo classico si fa o medicina o ingegneria o giurisprudenza non ci sono altre varianti perché la mia famiglia certo perché quella era la strada segnata mio padre non me l'ha mai detto però io sapevo che nella nostra strada c'era quello quindi io mi sono auto immolata a quel tipo di vita con grandi frustrazioni perché io e giurisprudenza eravamo due universi paralleli che non si sarebbero mai incontrati e quindi quando lui è mancato ho capito che la vita è bellissima ma è un attimo e che non si può sprecare a farla ciò che non piace perché è un peccato far ciò che non piace per una vita e poi quella vita finisce non hai in questo mondo un'altra possibilità e quindi ho deciso di seguire la mia passione che era quella del disegno l'arte il riciclo perché lei ha però non mi svelo nulla perché dovete andarvele a cercare insomma un'arte un'attitudine fa diventare arte il riciclo lei si iscrive con la sua mamma che è d'accordo la sua iscrizione a questa accademia mi ha posto un limite tutte le materie ogni anno a giugno se no vai a lavorare anche perché io lasciavo il quarto anno di giurisprudenza cioè arrivare all'hsb era il quarto anno ma non ero alla laurea era un importante sì e allora ho preso l'impegno l'ho portato avanti ho dato tutte le materie giugno mi sono laureate in tre anni una sessione infatti perché ho finito prima con 110 lote e il regalo più grande il giorno della laurea è stato questo non lo dico per per vanterie il 110 lote lo dico magari perché c'è qualche ragazzo e lo dico anche sul canale che si sta crogiolando i studi che non gli piacciono pensando che ci sia una laurea di serie a e una laurea di serie b no 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 ma io dicevo non ho dubito che la vedo insomma ma fare qualunque cosa basta che la si fa bene è la cosa più importante e il giorno della laurea mia madre arrivò e mi diede il più grande regalo che potesse darmi nulla di materiale aprì il tacquino in cui segna tutti si appunta tutti i sogni che fa con protagonista mio papà ogni volta che mia madre sogna mio papà se lo scrive pensi che amore è una settimana dopo la dipartita di mio padre mia madre aveva sognato mio padre che scendeva dalla scalinata dell'accademia di belle arti con un rulo di disegno sotto al braccio e lei lo scriveva nel sogno c'era mia madre nel sogno c'era mia sorella mancavo solo io e mia madre si chiedeva Enzo cosa mi vuole dire con questo sogno perché nella mia famiglia non c'era nessuna attinenza ovviamente cosa voleva dire voleva dire che passando per quell'accademia salendo quelle scale dando un voto non buono o non come su lui se l'aspettava al suo studente Gabriele doveva arrivare e qui lasciamo il finale in questo nostro minuto finale al papà doveva arrivare Enzino questo forse voleva dire perché voi avete un bambino meraviglioso che ha preso gli occhi del papà e proprio pum gli ha rubato gli occhi Gabriele è l'opera migliore della mia vita è un'opera d'arte è un'opera d'arte veramente non perché mio figlio però è bello è bello sai come si dice scusi abbia pazienza ed è stato avvolto nel giorno del battesimo nel velo di nozze che era poi della mamma di Ombretta che è diventato il velo di nozze di Ombretta allora Solare torna tutto guardate siamo tanti raggi sparsi ma torna tutto adesso quanto ha? sette anni sette anni e anche lui già si diletta di arte? si 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 diletta lui è molto indipendente non ama molto le regole è una strattista e quindi lui si diletta qui ha fatto i suoi sette anni di recente si 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 gli piace lui è un costruttore un assemblatore anche allora noi vi abbiamo preso come tela vi abbiamo steso abbiamo affermato la tela abbiamo visto che è una formidabile opera d'arte abbiamo messo la cornice d'oro poi abbiamo messo il chiodo al muro vi teniamo così belli appesi da guardare grazie nella nostra ora solare grazie di averci raccontato la vostra storia grazie a voi è stato un piacere grazie grazie di cuore grazie grazie siamo lo dico fieri ed orgogliosi che abbia accettato il nostro invito Susanna Tamaro ben arrivata grazie ben arrivata e grazie allora quando si dice Susanna Tamaro tutti gli artisti lasciano un marchio ed è va dove ti porta il cuore tradotto in quanto che tra l'altro sono tra pochi giorni 25 anni te li porti benissimo i tuoi 25 anni di va dove ti porta il cuore tradotto in 46 lingue 46 lingue quindi e torniamo alla bellezza sapete alla bellezza all'amore al senso più bello che si deve dare alla propria vita e poi ci sono gli scrittori come Susanna che lo traducono nella maniera migliore poi c'è Il tuo sguardo illumina il mondo edito da Solferino un libro che sta sta andando benissimo e quando dico questo è oltre il concetto della vendita del libro che cos'è che rende questo libro bello Susanna è intanto ben arrivata è un libro bello perché parla di cose di cui forse oggi ci si vergogna di parlare o si parla poco o si ha paura di parlare parla di una grande amicizia parla della poesia parla della malattia della morte ma di tutto ciò soprattutto che è eterno che rende la nostra vita degna di essere vissuta è un libro sulla delicatezza sulla gentilezza sulle cose intense e profonde che rendono unici i rapporti il rapporto è quello con Pierluigi Cappello siamo ad un anno dalla morte e siamo ad un anno e un po' settembre l'anno scorso ottobre l'anno scorso e questo questo era lui ed era questo poeta grande poeta grande poeta grande poeta grande amico che cosa che cosa vi ha legato che cosa c'è in questo tuo sguardo che illumina il mondo ma noi ci siamo conosciuti pochi anni fa in realtà io lo conoscevo sulle poesie ma non personalmente ma come ci siamo incontrati per la prima volta esattamente a questo festival è stata come dire una folgorazione sai come quando incontri una persona è come se l'avessi conosciuta da sempre succede con i grandi amori con le grandi amicizie anche con i grandi cani con tutti quei trasporti che hai per qualcuno che non immaginava esistesse poi lo vedi di colpo è lì sì siamo fatti uno per l'altro noi solo abbiamo fatto di amicizia le anime si entrano in profondità di comunicazione e noi avevamo la caratteristica essendoli un poeta e anche io di avere in fondo questa grande innocenza di non avere maschere di non avere costruzioni super per cui noi andiamo direttamente al cuore delle cose e alla verità delle cose nello stare insieme tu mantieni questa questa linea unica in realtà no io penso a per voce solo poi non faccio tutta la lista chiaramente perché sembra che uno faccia la lista i libri sono 25 Susanna Tamaro si legge Luisito Susanna Tamaro si legge con passione perché fatalmente quando leggiamo le tue pagine scopriamo che stai parlando di noi e questa è la bellezza della lettura però questo è un libro in cui ciò che teneva era impossibile tenere Pierluigi Cappello fermo se non fisicamente bloccato dalla sua condizione si lui aveva avuto un incidente a 16 anni il motorino con le cose purtroppo stupidissime e dunque la sua vita lui era un ragazzo bello sportivo simpatico a fare pilota di aeroplani e a 16 anni si è trovato per anni in ospedale inchiodato tutta la vita in una sedia a rotelle infatti è morto giovane dunque il suo fisico il suo corpo è rimasto paralizzato ma la sua mente no e soprattutto la cosa che mi colpiva e quello per cui ho anche voluto raccontare questa grande storia questa grande amicizia il fatto che secondo gli standard contemporanei la sua vita era una vita più o meno invivibili noi viviamo un'idea che la vita era di essere tutto al massimo tutto perfetto un'ottima salute e avere un benessere economico la sua vita era esattamente l'opposto a questo era una vita di grandi privazioni privazioni fisiche privazioni economiche privazioni di tutto però lui aveva un'anima così grande che quel poco che aveva diventava una luce assoluta allora senti mi permetto di dirlo perché ho il piacere di conoscerti da tempo tu hai un'anima grande Susanna e in questo libro ecco perché parlavo di qualcosa che ti blocca e tu hai il coraggio il coraggio è la la forza di raccontare cito questa sindrome di Asperger così che si chiama di cui parli per la prima volta 60 anni guai a chi te li possa dare ma di finzione senza essere un attore che detta così può sembrare la Tamaro fingeva la Tamaro ha recitato un ruolo e invece no questo emerge dalle pagine di questo libro che parla a un certo punto anzi nel mentre come una treccia di te cosa sono stati questi anni di finzione io parlando appunto di Pierluigi e del suo limite non era programmato ma è venuto spontaneo a parlare anche del mio limite perché io soffro della sindrome di Asperger dunque una sindrome autistica e dunque per reggere il mio ruolo ma da quando andavo a scuola fino adesso nel ruolo pubblico ho fatto una fatica terribile ho dovuto non è finzione che sono sempre io però ho dovuto sforzarmi di apparire normale mentre io normale proprio da certi punti di vista non lo sono dunque è stata una fatica terribile ed è un segno proprio della sindrome quello di avere un senso di spossatezza nella vita proprio perché ti sforzi per essere accettato per lavorare di essere ma non lo sei dunque non è uno sforzo di ipocrisia ma è uno sforzo di voler mettersi in dialogo con gli altri ma non ce la fai quindi essere più non so come chiamarle viene presa per eccesso di timidezza quando sei piccolo quando ero piccola non si sapeva che esistesse questa sindrome dunque venivo calcolato come una bambina patologicamente timida poi come una bambina schizofrenica con tante tante diagnosi perché non si conosceva questa sindrome dunque per me è stata una liberazione sapere perché poi come sai io sono una persona estremamente equilibrata tu mi conosci no? sono una persona che non ha dunque è un problema neurologico non è un problema psicologico e dunque è stata anche in qualche senso una liberazione perché io adesso so quali sono i miei limiti e mi muovo in relazione ai miei limiti insomma in un perimetro dove tu conosci che posso in non dover andare oltre e invece finché non lo sapevo mi sforzavo mi sentivo in colpa di come devo fare questo mi sforzavo non ce la faccio ma devo farlo non ce la faccio invece di questo non ce la faccio e non lo faccio ed è merita un applauso tutto questo me lo permettete perché a volte penso che sia ci ho pensato leggendo questo libro che a volte sia stata una forzatura anche chiamarti qui ma in realtà so che dove tu dici di sì allora rientriamo in questo perimetro ma poi a me piace molto comunicare con le persone incontrare le persone chiunque mi incontra sa che io sono una persona molto curiosa però purtroppo ho questo grande limite che alle volte mi costringe a ritirarmi il regalo ultimo della tua mamma che è che è immenso e dall'altra parte apre una o meglio dà una chiave infatti infatti perché appunto siccome non si sapeva che c'erano queste sindrome mia madre tutta la vita mi diceva sempre intorno all'anno e mezzo o due anni si è completamente cambiata che è proprio tipica della sindrome ma tu diventi un altro bambino e la cosa impressionante è che io non ho una foto di me da un bambino in cui sorrido mai perché sono sempre è una forma di autismo dunque una forma di chiusura e lei non avendo i mezzi che non c'erano quella volta i mezzi era disperata che non riusciva a comunicare in nessun modo e lei è morta prima di sapere che avevo la sindrome però mi ha lasciato questo bigliettino in cui dicendo anche se non ti ho mai capito ti ho voluto bene perché lei non era mai riuscita ad entrare nella terra e il messaggio dell'immensità delle madri anche se non ti ho capito cioè quindi non ti ho capito perché ero difficile era come una fortezza era impossibile entrare dentro dunque quella volta i mezzi non si sapeva non c'era non si sentiva era molto complicato avere un bambino o un ragazzo o così grandi sofferenze naturalmente però ecco mi dispiace che non l'abbia saputo perché sarebbe stata anche per lei una liberazione beh lo sa la sapace lo sa poi le mamme ovunque le mamme si trovino in qualsiasi luogo non gli sfugge niente per questo sono madri allora il il mondo io sorrido perché Susanna non si è messa quell'anello verde perché è seduta su una poltroncina verde no? perché se no uno dice che chic pazzesco questa signora cambia no? però in quel verde io vedo tutto il tuo mondo che è sempre verde che è sempre verde come l'erba tu hai costruito la tua casa la tua grande casa con un grande giardino si può chiamare giardino anche se in realtà è un bosco un po' selvatico non è molto curato ci tieni molto anche alla selvaticità la naturalezza che ti attornia sì arriveremo ai tuoi animali tra poco ma a me colpisce tanto partiamo dagli animali più piccoli che poi sono immensi che sono le api e sai viviamo in un mondo lo sai benissimo guardatela qui è meglio della Tamaro in versione quelle cose che io non farei mai e che lei invece fa con una naturalezza assoluta tu hai costruito un microcosmo macrocosmo intorno a te che è fatto di rispetto per gli animali per la natura le api sono in grande pericolo grandissimo se muoiono le api muore il mondo assolutamente e tu sei lì come ti è venuta questa idea di costruire ho sempre avuto la passione degli insetti e le api mi hanno sempre affascinato che affascinano tutti gli esseri umani le api che sono delle creature misteriose pensa che addirittura lo sciame è la cosa più simile al cervello umano pensate se studiano alcune degenerazioni del cervello umano lo studiano sullo sciame perché lo sciame con le comunicazioni tra le varie api è come il rapporto neuronale dunque tra noi le api c'è un rapporto che non ci rendiamo neanche conto quanto profondo è e il disagio delle api è anche il disagio nostro secondo me in questo momento siamo tutti fuori fase e le api risentono di questo scordinamento è un mondo meraviglioso in cui si continuano a scoprire cose perché adesso con tutte le macchine più moderne scopriamo grazie all'elettronica una volta si andava sull'osservazione e guardavi le api e deducevi adesso come dicevamo le mezze scientifici scopriamo delle cose veramente straordinarie e io le ho in giardino da qualche anno perché è un hobby naturalmente però mi dà una gran pace in fondo tutti i monasteri avevano sempre le loro arnie una forma di meditazione e l'apicultura e anche io che soffro di insonnia quando stai con le api a me mi è venuta sbadigliare perché questo rumore che fanno è come un suono un suono così antico così che ci appartiene così un suono del mondo in qualche modo perché tu ascoli questo rumore e ti rilassi anche se loro sono delle creaturette minacciose tutto ciò che è minaccioso se mal usato se attaccato se non rispettato perché il senso è questo entro su questo tema perché Susanna ha fatto benissimo ho avuto la grazia e la forza di scriverne tra i tuoi tanti animali ci sono delle voliere che uno volentieri andrebbe a fare il passerotto nel senso che no c'è questa casa dedicata a tutti i pappagallini ai passerotti insomma animali in difficoltà cani, gatti, cani e la tua piccola Pimpi che è stata uccisa da una polpetta avvelenata e la tua reazione è stata come sempre di profondissimo e decoroso dolore perché è un dolore è un dolore terribile sì la morte di un cane di un animale di affezione è un dolore terribile perché con loro non abbiamo parole non abbiamo in memoria delle parole non abbiamo memoria di passati insieme di progetti fatti noi abbiamo soltanto la comunicazione del cuore immediata con gli animali quando manca un nostro animale è come se venisse un'ombra sul cuore questo vuoto che non riesce a riempire con nulla perché era solo la loro presenza che lo riempiva una tristezza terribile però siccome questa è l'ora solare sì io penso no no io penso lei è già partita perché Susanna è la prova di una nave rompi ghiaccio nel periodo invernale anche perché ghiaccio non ci sarebbe nel periodo estivo ma no nei ghiacci nel nord del mondo e quindi tu sei già partita alla ricerca di un'altra di un'altra Pimpi con la quale sederti sulla panchina a guardare il tramonto lei ha messo un anno per trovarla perché io sono guardo sempre prendo sempre cani usati come dice mio amico cioè i cani del canile per cui per trovare un cane non è facile quando hai un cane c'è un 3-400 cani devi trovare la tua anima gemella ci vuole un po' ci vuole tempo ci vuole lei avevo aspettato un anno e sono cominciato naturalmente le ricerche perché naturalmente ci sono quelli che no mai più si soffre sempre avere un cane però sono pronta a risoffrire un'altra volta perché siamo sempre aperti a dare speranza a tutte le creature sì perché se no per non soffrire non si fa nulla non si vive non si fa no no il cane è morto non voglio mai più soffrire per carità ci sono quelli che hanno un unico cane io mai più invece io ho un cane il mio diciottesimo e ne avrò spero fino alla fine dei miei giorni perché magari poi ne prendi uno vecchiettissimo però insomma sono abituata il tuo sguardo illumina il mondo Susanna Tamaro quando è qual è stata la tua ora solare ora solare è un momento di felicità così ma ma io ho tante ore solare mi sono espressa malissimo la mia ora solare è stare con i cani perché i cani le api la mia ora solare è stare in mezzo alla natura con gli esseri che mi prendo far crescere le piante l'orto le rose insomma io vivo di felicità di ora solare nella natura e questo mi dà la forza poi di affrontare anche l'ora solare con gli esseri umani perché mi ricarico nella natura per poi condividere le mie cose con le persone che penso che attraverso i miei libri tante persone hanno imparato a conoscere meglio loro stesse hanno fatto un cammino e incontra adesso appunto sono 25 anni che è uscito va di Porta al Cuore tra tre giorni non sai quante persone incontro e continuano a incontrare che me ne parlano come se l'avessero letto due giorni fa ieri perché si ricordano oppure che l'hanno riletto lo rileggono oppure la figlia adesso è grande lo dà la legge alla figlia cioè un libro che va di generazione in generazione è un po' un come dire perché quando io scuto 25 libri però tutti si ricordano solo quello quando è stato un libro no però ne ho scritto di tanti altri no tra cui questo incontro le persone ma quando scriverà un altro libro ma veramente ho scritto altri 24 oltre la di Porta al Cuore però quello è rimasto diciamo la punta di diamante e quello lo devi lasciare quello sta lì vi posso raccontare un mini gossip che vi spiega Susanna Tamaro lei lascia casa esce e va al mercato e vede dei pappagallini che le volano sulla testa e dice guarda sono gialli come i pappagallini che ho io torna a casa i pappagallini hanno fatto un buco nella rete secondo me non per cercare la libertà e ritornare a casa per seguirla secondo me l'ora solare dei pappagallini è Susanna è andata a fare la spesa andiamo a vedere dov'è credo che sia questa e spero che Luisito questo lo dico come speranza come lettrice diventi un film perché ne avremo veramente bisogno di quella storia raccontata anche al cinema ma tu queste cose le sai fare Susanna Tamaro grazie di essere stata con noi grazie finestre spalancate rientriamo tra poco all'ora solare grazie l'ora solare l'ora solare si accende su Don Francesco Cristofaro bentornato grazie grazie Don Francesco parroco applausi a scena aperta di Santa Maria Assunta Simeri Crichi provincia di Catanzaro allora con il nostro Don Francesco Cristofaro noi proseguiamo il viaggio all'interno dei sacramenti e oggi? oggi parleremo dell'eucaristia e l'eucaristia che cos'è? è il cibo dell'anima no? anzi veniva e viene definito il pane degli angeli e l'eucaristia ecco come il corpo ha bisogno di nutrirsi no? per riprendere le forze l'energia per mantenersi in vita noi mangiamo la pasta il pesce il latte così l'anima ha bisogno del suo nutrimento e il nutrimento è l'eucaristia che cos'è l'eucaristia? è il corpo e sangue di Gesù ovvero è il grandissimo amore la grandissima misericordia del Signore che ha visto questi suoi figli in cammino e non li lascia soli non li ha lasciati soli ha dato loro il nutrimento spirituale l'eucaristia appunto Don Francesco è il sacramento dell'iniziazione cristiana è il sacramento che ricorda il gesto questo gesto è stato impiuto da Gesù esatto il sacramento dell'eucaristia nasce proprio dall'ultima cena quindi istituito direttamente da Gesù prese il pane rese grazie lo spezzò lo diede e disse prendete e mangiatene tutti così con il calice con questo comando finale dato agli apostoli fate questo in memoria di me infatti tra i nomi dell'eucaristia c'è proprio questo memoriale noi oggi facciamo memoriale della passione di Cristo attraverso appunto l'eucaristia hai detto bene il sacramento dell'iniziazione cristiana insieme al battesimo e alla cresima e battesimo e cresima si completano perché la cresima o confermazione conferma le promesse del battesimo la scelta del battesimo e l'eucaristia appunto invece è questo nutrimento per il cammino del cristiano cammino quotidiano andiamo a sentire come Papa Francesco ha spiegato il sacramento della comunione siamo a marzo scorso durante il percorso di Catechesi sulla Santa Messa sentiamo ogni volta che noi facciamo la comunione ci assomigliamo più Gesù ci trasformiamo più in Gesù come il pane e il vino sono convertiti nel corpo e sangue del Signore così quando li ricevano con fede sono trasformati in eucaristia vivente al sacerdote che distribuendo l'eucaristia ti dice il corpo di Cristo tu rispondi Amen ossia riconosci la grazia e l'impegno che comporta diventare corpo di Cristo perché quando tu ricevi l'eucaristia diventi corpo di Cristo è bello questo è molto bello mentre mentre ci unisce a Cristo strapandoci dai nostri egoismi la comunione ci apre ed unisce a tutti coloro che sono una cosa in Lui ecco il prodigio della comunione diventiamo ciò che riceviamo ci trasformiamo di più in Gesù questo accade è bello questo che ha detto Papa Francesco e in chiusura ha detto quest'altra bellissima espressione diventiamo ciò che riceviamo cioè diventiamo Cristo attraverso l'eucaristia cioè l'eucaristia presa assunta naturalmente con fede con le dovute condizioni in stato di grazia fa usa un'espressione morire l'uomo e fa assumere lo spirituale le nostre cellule diventano spirituali ci diventiamo cristiforme prendiamo la stessa forma di Gesù infatti vorrei dire questo in questo spazio sappiamo tutti che cosa è l'eucaristia cioè è facile dire l'eucaristia è il corpo e il sangue di Cristo e quello che dobbiamo puntare noi cristiani noi fedeli che ci accostiamo all'eucaristia è farlo bene e soprattutto quando ci mettiamo in fila per ricevere la comunione pensare a chi stiamo per ricevere cioè c'è un episodio bellissimo nel Vangelo dell'emorroissa questa donna affetta da grave emorragia che nessun medico l'ha potuta guarire e a un certo punto dice davanti a sé a Gesù se io tocco il suo mantello guarisco pensate questa donna con questa fede tocca un lembo di mantello e guarisce noi Gesù lo mangiamo noi Gesù lo riceviamo nel cuore potrebbero avvenire noi grandissimi miracoli se ci crediamo ed è come si arriva al termine di quella fila nel senso come ci si è preparati voi ci si è preparati brava Paola io dico spesso nelle catechesi che non dobbiamo pensare al sugo messo la mattina prima di uscire di casa andare a messa o a che cosa devo fare dopo io devo pensare che sto andando ad incontrare il mio sposo il mio amore la mia vita cioè Gesù cioè io sorrido che spesso noi andiamo di qua e di là in giro facciamo lunghe file lunghe trafile per vedere questo personaggio quell'altro personaggio ma le chiese dovrebbero esplodere di persone sapendo che c'è Gesù cioè c'è il Signore le chiese dovrebbero esplodere dinanzi a questa potenza maestosa di un Dio che dimentica di essere Dio e si fa uomo per camminare insieme agli uomini ma non siamo stolti a volte noi sì ma non sono io a doverlo dire per carità sono la prima la prima del gruppo però il senso è effettivamente questo per questo non riuscivo a trovare ma per questo c'è Don Francesco Cristoforo le parole giuste per dire quel camminare verso il momento della comunione deve essere un momento ragionato bisogna pensare a si chiama comunione perché ecco questo è un altro dei nomi che viene attribuito all'eucaristia comunione perché lo dice la parola stessa unione io mi unisco a Gesù e da qui anche la prima comunione cioè il primo incontro che ognuno di noi ha con Gesù prima di andare ad una prima comunione molto speciale che vi racconterà il protagonista ma la prima comunione di Don Francesco Cristoforo com'è stata? è stata bellissima perché la tutto c'è lo studio tutto è nato dalla prima comunione perché io Paola tu lo sai sono nato con una paresia alle gambe e prima di questa fase ho vissuto nella mia tristezza nella mia solitudine chiedendo la grazia della guarigione fisica avevo un vangelo mio un vangelo del piangermi addosso del non servo a nessuno e la prima volta che mi avvicino in chiesa perché i miei genitori non frequentavano fu proprio per prepararmi alla prima comunione e qui comincio ad assaporare un vangelo diverso un vangelo dove anche io mi sentivo uno strumento nelle mani di Dio fu proprio poi più in là già da ragazzo il libricino della prima comunione e in particolare le parole prendete e mangiatene tutti prendete e bevetene tutti che mise nel mio cuore il desiderio di diventare sacerdote quindi io devo tutto a questi momenti bellissimi della prima comunione anche noi che ti vogliamo bene grazie perché abbiamo grazie a quella prima comunione Don Francesco Cristofaro e grazie per questo racconto Mario Librera vive a Caserta nel 1964 riceve la prima comunione per mano di padre Pio e noi siamo andati ad incontrarlo di solito i bambini la prima comunione la facevano verso i dieci anni nove dieci anni ma per padre Pio nove dieci anni era troppo tardi perché perché padre Pio diceva sempre che il cuore di un bambino verso i sette anni massimo sette anni e mezzo è ancora così candido e così puro da poter accogliere degnamente per la prima volta del cuore Gesù e Eucaristia e quindi a sette anni ebbi questo permesso e il 30 giugno del 64 alla messa mattutina anzi all'alba di padre Pio insieme ad altri due ragazzi ho ricevuto dalle mani di padre Pio la prima comunione sia i momenti della preparazione alla prima comunione sia il giorno della prima comunione sono stati due momenti importantissimi la preparazione veniva fatta in modo serio le sue le ci tenevano quindi il vecchio stile del catechismo di una volta già mi metteva non dico ansia ma mi metteva quel senso di di attesa di qualcosa di grande che mi stava per succedere ho visto che Cristo in quel momento veniva da me Mario e mi si donava per sempre attraverso padre Pio era un mezzo per rientrare nel mio cuore io lo guardavo negli occhi non ho visto altro e per me il cuore era proprio pieno pervaso da quella da quella gioia da quella voglia di incontrare questa persona che poi non mi avrebbe mai lasciato per tutta la vita e questa era la consapevolezza più bella oltre al fatto che quest'amico per la prima volta me lo presentava e me lo donava a padre Pio era una cosa mia che mi portava gioia poi la vera gioia l'ho provata io personalmente quando ho ricevuto la comunione sono ritornato al mio posto per quel momento di riflessione di preghiera e realmente posso dire che forse col tempo ho capito bene quella sensazione che provavo e che ho provato che veramente quella sensazione era vera era reale e mi sono riempito era entrato dentro di me qualcosa di di realmente vivo importante e presente e credo che grazie a padre Pio posso dire con gioia che adesso sono 22 anni che sono anche diventato diacono questa esperienza può servire a far capire l'importanza dell'eucarestia e quando sia importante realmente riceverla degnamente non è un'ostia piccolina ma è veramente Cristo che entra nel nostro cuore Don Francesco Cristofaro la comunione la comunione spirituale che cosa è? è importantissima la comunione spirituale perché ci sono tante persone ammalate tante persone inferme che stanno in casa che non possono recarsi a messa che magari non ricevono l'eucarestia allora partecipando alla messa televisiva e al momento della comunione possono chiedere al Signore col desiderio con la fede di riceverlo spiritualmente e questo vale per tutte le persone che non possono appunto recarsi alla messa ed è un altissimo valore in dieci secondi il sacramento della penitenza prima di ricevere la comunione quando si è in peccato mortale si è importante perché tu prendi la cosa più bella che c'è e la metti nello sporco e si sporca e per questo il cuore deve essere pulito per ricevere il Santissimo Don Francesco Cristofaro grazie di essere stato con noi a Lora Solare grazie grazie ancora una volta e allora noi ci mettiamo tutti intorno al nostro Don Francesco per ricordare che tra poco in onda la recita della coroncina la Divina Misericordia subito dopo alle 15 e 20 con Gabriella Facondo e Massimiliano Niccoli io dico sempre Gabriella e Massimiliano perché ormai sono più che mai casa anche per me cioè siamo noi noi ci vediamo domani sempre intorno alle 14 dico intorno minuto più minuto meno l'ora solare lasciate le finestre aperte grazie Don Francesco grazie